I pensori non hanno concesso veramente niente, vedremo quello che succederà ora. Tutte e due le squadre per quello che hanno fatto vedere meriterebbero la vittoria. Siamo però arrivati al momento giudicato da molti crudele dei calci di rigore. C'è una pressione elevatissima sulle spalle dei protagonisti. Sarà lui a prendersi la responsabilità di calciare il primo rigore. 1-0, l'ha messa dentro con grande sicurezza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Mané, calcerà dagli 11 metri. 1-1, freddissimo qui. È 1-1 adesso, è riuscito a riequilibrare l'incontro. Sarà lui il secondo rigorista della squadra. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Mohamed Salah si appresta a tirare il secondo rigore per la sua squadra. E il portiere qui sceglie l'angolo sbagliato. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Aveva capito dove si sarebbe buttato il portiere e non si è lasciato per niente tradire dall'emozione. Questo rigore potrebbe ristabilire la situazione di equilibrio tra le due squadre. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Milner sarà il quarto rigorista della sua squadra. Il portiere intuisce la direzione del tiro. La palla però va in rete lo stesso. Ha tenuto i nervi saldi. Questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. Freddissimo! Non doveva sbagliare, non ha sbagliato. E ha un peso enorme sulle spalle. Se realizza questo rigore hanno vinto. Andanovic non deve far entrare questa palla o è finita. Parato! Mantiene in corsa la sua squadra. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Da qui in poi si va d'oltranza. Un errore ed è finita. Rete! Il portiere si è buttato dalla parte giusta. Non è riuscito a bloccare. Qui non possono sbagliare. Se non entra hanno perso. È il rigore decisivo. Non può permettersi di sbagliare. È dentro! C'è ancora speranza. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. La mette lì, nell'angolo destro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ora chi sbaglia ha perso. Che disastro questo rigore. Ha cercato la precisione. Il legno gli ha negato il gol. Andanovic. È l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile. Doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Il portiere deve avergli letto nel pensiero. Sapeva esattamente come avrebbe calciato. Spiazza il portiere in sacca. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. C'è il gol. I tifosi fanno bene a crederci ancora. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Da qui in poi si va d'oltranza. Un errore ed è finita. Grande parata. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Andanovic. Deve assolutamente parare questo rigore. Parato. Mantiene in corsa la sua squadra. Grande il portiere. Anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. E ora si va ad oltranza. Colpisce il palo. Flamonoso. Qui il portiere è stato fortunato. È stata una questione di centimetri. Andanovic. È l'ultima speranza della sua squadra. Palo. Il portiere può festeggiare. Un'esecuzione quasi impeccabile. Qui è stato davvero sfortunato. Tutti i rigoristi hanno già tirato ma non è finita. Il portiere era battuto. Ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Andanovic. Non deve far entrare questa palla o è finita. Il portiere non ci sarebbe arrivato. Lo salva il palo. E ora chi sbaglia ha perso. Parato. Grande salvataggio del portiere. Il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Andanovic. Si appresta a calciare un rigore pesantissimo. Andanovic. È l'ultima speranza della sua squadra. Incredibile. Doveva pararlo a tutti i costi e c'è riuscito. Grande intuito del portiere. Bravo a leggere le intenzioni del giocatore. Da qui in poi si va d'oltranza. Un errore ed è finita. Portiere spiazzato e palla dentro. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Deve segnare per mantenere la sua squadra in gara. È dentro. C'è ancora speranza. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. E ora si va ad oltranza. Il portiere intuisce la direzione del tiro. La palla però va in rete lo stesso. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione. E lui ce l'ha avuta. Il Liverpool deve segnare a tutti i costi. La mette dentro e la sua squadra può respirare almeno per un attimo. E ora chi sbaglia ha perso. Palla da una parte, portiere dall'altra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Eh, se questo pallone non entra, la partita è finita. Qui non possono sbagliare. Se non entra, hanno perso. Il portiere ha appena regalato la vittoria ai suoi. Grande dimostrazione di forza, di freddezza, di mentalità. Hanno mantenuto i nervi saldi fino alla fine. E poi è arrivato il trionfo. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore. Gli avversari non hanno saputo gestire la tensione dei calci di rigore.